Benvenuti a Chiaro Quotidiano, una notizia in un minuto. Da anni si parla della costruzione del quarto lotto della circonvallazione Istoniense e Abbasto, ma la strada non si può fare perché nel frattempo sono stati costruiti i palazzi su quei terreni. Allora l'alternativa è la costruzione di una bretella di collegamento tra la rotatoria nord di Corso Mazzini, via San Sisto e via del Porto. Il progetto è stato approvato nel 2019, quindi pre-pandemia, dal Consiglio Comunale. Si pensava, almeno nelle promesse, che la strada potesse essere aperta entro la primavera del 2020. Sarà lunga 450 metri, 150 dei quali già esistenti. Opera da finanziare con gli oneri di urbanizzazione del comparto edilizio CO46, quindi con la costruzione dei palazzi. Abbiamo chiesto al Sindaco di Vasto quando verrà costruita questa strada, ci ha detto che verrà iniziata la costruzione quando saranno avviati i cantieri per la costruzione degli edifici. Dunque i tempi sono destinati ancora ad allungarsi.